Partita, la prima finale, mille metri spinta, titolo italiano in paglio, adesso il pittatore Chiumiento, Maina, la raga, all'esterno viola faccioni, va a mettersi terza, viola faccioni sempre davanti, adesso il pittatore molto tattica, come è evitibile questa gara, pittatore Chiumiento, adesso dei mani, va a terza, molto importante, guadagnare la posizione in questa fase, al passaggio, staremo a meno tre, non siamo ancora a metà gara, e andiamo Sprega all'esterno, all'esterno Olivia Sprega, provando avanti, non ce la fa, siamo ai 400 metri giusto, si non eseguero a metà gara nel phò e di, Luca Pacconi, poi Chiumiento, poi Alessia Pitatore, sofia Paola Chiumiento all'interno, è una donazione, sofia Paola Chiumiento, Siamo alla faccana Pioniento, Pioniento Pitatore, Pioniento Pitatore e Paccioni, Sofia Paola Pioniento, 15 metri di vantaggio per la campione del mondo, che va a percorre l'ultima ruota arriva, la mia Sofia Paola Pioniento. Pioniento Pitatore, Pioniento, 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 P